Ciao ragazze, allora questo video è in risposta a un video per un concorso nel quale viene richiesto di fare il nostro look preferito, quello che utilizziamo di più e poi completare tutto con una bella smorfia allora io vorrei fare tutto quello che faccio solitamente di mattina e farò il look che solitamente uso per andare a scuola quindi andiamo subito crema la viso e applico anche subito la mia bazoon prombretto poi prendo il mio corrector allora grazie 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 Poi prendo l'ombretto in mousse della Maybelline, e voilà, ora prendo sotto tutto. Ecco qua, scusate, dicevo, ora prendo l'ombretto in mousse della mecca con il pennello 209, basta veramente pochissimissimo. Ecco qua. Fatto questo, prendo il mio blush in crema, in questo caso è quello della Shiseido, il numero F2. E poi prendo la mia matita per le labbra e la passo su tutte le labbra. Ora, aspetta, se scioglio un attimo. Ovviamente prendo il mio piede a ciglia. Poi prendo la mascara. Puoi rendere brava a cui prendo il mio tasto Painella. oggi fa un po' più freddino ok poi prendo un mascara, sì, un lip gloss natural e infine prendo il mio mascara in gel per le sopracciglia e il look termina qui e quindi che dirti ciao